Sabato l'esordio in campionato per la Lishani Teramo, nella serie cadetta al Pala Acquaviva arriva Iesi. Sì, siamo pronti per affrontare questa nuova avventura, io sono arrivato da poco, ma penso di poter dare il mio aiuto a questa società e a questi ragazzi. Veramente ho trovato una squadra molto organizzata, il mister molto preparato, quindi possiamo fare bene. Ecco, diciamo a coloro che magari seguono il Calciacinque, sono di Teramo ma non ti conoscono, il tuo curriculum? Beh, allora, le ultime due stagioni ho giocato per la Fuzza al Celano, quindi il campionato di serie B e poi il campionato di serie A2 lo scorso anno. Altri anni poi ho giocato nella Sagittario Pratola, penso un 5-6 anni fa, e poi due anni allo SportsCenter in C1, sempre qui a Celano. Il campionato di serie B comunque è difficile. Sì, sì, io non conosco sinceramente questo girone perché ho sempre affrontato il girone romano e campano, però come mi dicono e dalle squadre che ci sono, sicuramente saranno tutte squadre attrezzate, quindi ce la dovremmo mettere tutta per ottenere buoni risultati. Si parte con quali obiettivi? Beh, sicuramente di fare bene, poi naturalmente vediamo partita dopo partita. Grazie a tutti!